Ma insomma io credo che stiano facendo un'iniziativa sbagliata, ho espresso la mia comprensione, ma l'iniziativa è completamente sbagliata. Sono state raccontate alcune cose del tutto fuori della realtà. Il 17 aprile di quest'anno la regione Campania, con tutte le altre regioni, ha espresso un parere favorevole per sbloccare il reddito di cittadinanza. Se le regioni non esprimevano tutte un parere favorevole, si bloccava il reddito di cittadinanza. Quindi noi non abbiamo voluto bloccare una misura che pure a noi pare parziale. Quell'accordo ha, alla fine del primo paragrafo, un'aggiunta che è stata fatta su richiesta delle regioni. E cioè qualunque iniziativa in materia di assistenza tecnica dovrà essere preventivamente concordata con la regione di appartenenza. Con la Campania non ha concordato niente a nessuno. la cosa più strana è questa, che quando hanno fatto la selezione per i navigator, la selezione ripeto non il concorso, il concorso prevede anche la prova orale, la selezione, l'hanno fatto in due settimane. Chi l'ha fatta? ANPAL, l'agenzia nazionale, l'ha fatta sulla base del piano per il lavoro, che prevede questo, all'articolo 3, lettera B, lo dico per i navigator che stanno facendo questa iniziativa. Articolo 3, lettera B, fra i compiti di ANPAL c'è, lettera B, selezione e contrattualizzazione di nuovi operatori navigator, i cui contingenti saranno definiti con ogni singola regione, in particolare tutti gli oneri diretti e indiretti relativi all'assunzione e alle attività dei navigator, sono a carico di ANPAL servizi. Questo articolo significa che ANPAL si obbliga a contrattualizzare i giovani, poi si verifica il rapporto con le regioni, ma non c'entra niente, cioè non è quello il presupposto, tu ANPAL hai il dovere di contrattualizzare, è chiarissimo e francamente faccio fatica a capire perché non si apre l'avvertenza con ANPAL. L'articolo 3.2, subito dopo, i servizi erogati dal navigator non sono in alcun modo sostitutivi dei centri dell'impiego, ma in raccordo e supporto degli stessi, previo accordo con la singola regione. Quindi l'articolo 3.2 non dice prima fai l'accordo, poi sblocchi, dice io ti contrattualizzo, poi faccio gli accordi con le regioni, eccetera. Per quello che mi riguarda ci sono tutti gli elementi per pretendere che ANPAL contrattualizzi i navigator, a prescindere da quello che penso io, che questa misura avalla, legittima il doppio lavoro, perché ci sono navigator che hanno attività professionale, fanno gli avvocati, gli ingegneri e possono fare i navigator a 1.500, 2.000, 3.000 euro al mese. A me pare una cosa intollerabile in una regione che ha decenni e migliaia di disoccupati, ma questo non c'entra, è una valutazione che si fa dopo. Dal punto di vista del rapporto navigator-ANPAL, l'ANPAL è obbligata a contrattualizzare senza aspettare le regioni. Quello con le regioni si può fare o non si può fare, la regione è pienamente autonoma di fare quello che vuole, ma tu ANPAL che hai fatto la selezione ha il dovere di contrattualizzare i giovani. Allora se questi giovani vogliono fare una battaglia per la contrattualizzazione, la regione è pronta a sostenerli fino in fondo, in sede di conferenza delle regioni, in sede giudizia, quello che vogliono. Ma se vengono a fare iniziative sotto la regione che non c'entra assolutamente niente, sbagliano, perdono tempo, non so come dirla questa cosa. Cioè hanno un interlocutore che è, come dire, nei fatti perché la selezione l'ha fatta l'ANPAL, non la regione. Allora io gli consiglierei di non perdere ulteriore tempo e di aprire una vertenza con ANPAL rispetto a questa vertenza, pur essendo io contrario al lavoro pregario, quindi ai contratti co-co-co, ma sono pronto a sostenere in tutte le sedi questa battaglia. Avete fatto questa scelta, adesso assumetevi le responsabilità. Ma la regione, sinceramente, non si capisce che c'è. La regione è impegnata con i 303.000 che hanno fatto il concorso, con quelli che faranno il concorso per i centri per l'impiego e ci auguriamo che possano partecipare ovviamente anche tante ragazze e ragazzi che hanno fatto la selezione con i Navigator e ha aperto a tutti ovviamente il concorso.